Il Paiolo 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 Allora in questo piano qui c'è la collettiva di 20 Paiolanti Non c'era altro spazio Mentre sopra c'è una personale di due Paiolanti Di Sergio Papucci e Otello Cecchi Quindi è al piano di sopra Poi nell'altra sala abbiamo riportato riportato perché noi siamo stati a Pian de Mugnone a ricordare i nostri paio lanti defunti e c'era Luigi Calamandrei che aveva fatto tutti questi disegni e li abbiamo riportati più perché molti non hanno potuto vederli, nell'altra sala ci sono queste, quindi è una mostra piena. Imperdibile, allora sentiamo però come ce la presenta, anzi come la presenta i nostri telespettatori il professor Pierfrancesco Listi. Allora guarda, la collettiva è di una varietà straordinaria, hanno un po' associato ai pittori ma voglio ricordare per esempio la bella natura morta di Gregory Blanche, voglio ricordare il paesaggio del medico e pittore Cianfanelli, voglio ricordare il ritratto velato della Secci, quei soli circolari della Mei, insomma c'è un po' misurata la febbre della pittura fiorentina più interessante. Poi andiamo ai due Dioscoli, diciamo paio lanti, due vecchi amici che erano a scuola insieme da ragazzi, l'amico, come si chiama, Papucci, Papucci, Papucci è il grande erede delle vetrerie che tutti conoscono, cioè del Polloni, diciamo, quindi grandi cose. Naturalmente, 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 e cosa ci presenta? Ci presenta dei paesaggi, ci presenta, che cosa ci presenta? Ci presenta dei paesaggi, lui lavora sempre molto in grande, lavora nel chiuso, disegna queste vetrate per transatlantici, per basiliche, per alberghi, eccetera, e evidentemente poi la sua ispirazione ha bisogno invece di rivolgersi all'aria aperta, di riprendere la realtà com'è, e quindi ha questi bellissimi paesaggi. Paesaggista è anche l'amico Cecchi, il quale invece ha dedicato la sua vita, come si sa, alla grafica, alla pubblicità, perché era un grande pubblicitario, ma che sa disegnare, dipingere con tutto, a carboncino, eccetera. Qui ci sono degli straordinari acquarelli, è vero? Fa olio, fa ogni cosa, un po' smacchiaiolo, di grande rigore, di grande dignità, insomma è una coppia veramente un po' fuori dell'ordinario. Infine c'è una salina di 60 anni, si parla di 65 anni fa, poi in una saletta a parte ci sono le caricature di Calamandrei, Luigi Calamandrei. Io dico fate un libro, una monografia per Calamandrei, perché un caricaturista con la sua mano oggi non esiste più. E ricordiamo che i personaggi ritratti da Calamandrei sono grandi personaggi, da Mario Luzzi, agli ex sindaci Bausi, Bargerini, tutti, ma poi ha questa mano divina che può fare ogni cosa, è veramente un grandissimo caricaturista. E allora, Sergio Papucci, ti prendiamo subito al volo per che tu presenti la tua mostra personale ai nostri telespiratori. Cose, diciamo, praticamente di, come si può dire, di ispirazione, tutti i paesari, e io li faccio tutti sul posto. Quando vedo e mi piace fermare l'immagine, io, queste cose qui a me mi emozionano e sono fuori, anche con la neve. Ora mi ci vuole un po' meno, ma prima avevo fatto tantissime cose, proprio, di amore ti dicono, ma come ti fai, quando fai? Mi fermo, la gente non mi dà noia, e a questo punto faccio queste cose qui, e mi piace. E questi lavori che tu presenti, quale arco di tempo? No, c'è dei pezzi che sono roba del 51-52, ho preso 10-15 pezzi, in un paio di tutto il periodo della mia, diciamo, della mia vita, praticamente. Per ora c'è 60-65. Un compagno di scuola e d'avventura, c'è chi è il suo? Allora noi lo raggiungiamo al piano superiore. Al primo piano della galleria di Via Larga sono unite le opere dei due inseparabili amici, Sergio Papucci e Otello Cecchi. Sergio lo abbiamo già intervistato insieme al professor Listri al piano terreno della galleria, ora non ci rimane che passare il microfono a Otello Cecchi per presentare la sua mostra. Anzi, io direi, prima di parlare anche della vostra amicizia, che è nata... È nata quando io avevo 11 anni, ci siamo trovati a scuola a Porta Romana, e da allora non ci siamo più lasciati come gli innamorati. E non si è maletiano, maletiano. E vi ha unito l'amore per l'arte, per la pittura. L'amore per l'arte, sì, non divaghiamo... No, no, da questo gruppo ne manca uno, perché se la tre... No, Moschettieri se la scuola. Se è Moschettieri. Allora, ci vuoi presentare la tua mostra personale? La mia mostra personale è molto varia, passa da un anno a un altro, però si risale addirittura quando era ancora a scuola, con quell'acqua forte. E poi tutte queste altre cose fatte via via negli anni, fatte da dei paesaggi che mi avevano colpito, a delle persone che magari mi erano abbastanza rare, e da animali anche. Qui c'è un quadro che rappresenta una delle mie figlie con i loro figli, che è già di qualche anno fa. Qui dietro c'è mia moglie, e poi ci sono paesaggi vicino a casa, fiori, insomma, del giardino, è un po' vario. Io non è che ho un motivo particolare da dover fare e ripetere continuamente. Voi, secondo l'estero, secondo le cose che mi colpiscano e che mi piace ritrarre. All'aperto, anche lui, perché la plenaire, come dico, perché di conseguenza è stato lì fisso a fare tutte le costine. Qui è la libertà. Case, parenti, ma qualche altro anche... Grazie. Luigi Calamandrei ripropone in questa mostra una serie di caricature che già noi abbiamo avuto modo di proporre ai nostri telespettatori in occasione della commemorazione dei paiolanti defunti. Una cerimonia che si tenne nella chiesa di Pian di Mugnone e a Tiguo alla chiesa fu allestita una mostra per ricordare questi grandi personaggi che hanno fatto grande il paiolo dalla sua rifondazione nel 1950 fino ad anni recenti. Quindi ci sono grandi personaggi, personaggi di spicco della vita politica, sociale e culturale fiorentina. Li ha immortalati Luigi Calamandrei che per l'ennesima volta ripresenta questi suoi lavori ai nostri telespettatori. Certo. Niente, io ebbi l'onore di conoscerli tutti praticamente e mi fu dato l'incarico di fare le figure, insomma, di raffigurarli per un libro e i cui sonetti, conoscendoli, mi misi lì e li ritrassi uno per uno facendogli poi vedere e da alcuni fui anche criticato perché volevano qualche piccola correzione. Soprattutto i difetti fisici. No, no, ma che sciocchezza. Sottolineatura comportamentale. Io vorrei ricordare ai nostri telespettatori, lo abbiamo già detto in occasione della precedente inaugurazione, ecco, che queste caricature sono estratte dal volume e quelli del paiolo di Enzo Lazzeri che è l'autore dei sonetti che tu hai poi accompagnato con queste... Certo, certo. Glieli sottoponevo a lui e lui naturalmente poi ci faceva tutte le rime. Grazie. Allora, con l'intervista a Luigi Calamandrei si conclude il nostro servizio dedicato alla ricca mostra promossa dagli artisti paiolanti nella galleria di Via Larga in Via Caburse ed espositiva della provincia di Firenze che ha patrocinato questa manifestazione che si è inaugurata oggi venerdì 15 ottobre 2010 si concluderà sabato 23 ottobre sarà aperta al pubblico con il seguente orario 15.30-18.30 di tutti i giorni feriali. La mostra è ingresso libero è articolata, come abbiamo già detto in tre sezioni al primo piano c'è la mostra le due mostre personali degli amici Sergio Papucci e Otello Cecchi nella sala dalla quale vi stiamo parlando ci sono le caricature dei paiolanti del passato realizzate da Luigi Calamandrei mentre al piano terreno nella sala d'accesso da Via Cabur al numero 7 rosso c'è una mostra collettiva degli artisti paiolanti Grigori Blanche Mauro Boninsegni Donatella Calamai Luigi Calamandrei Filippo Cianfanelli Antonina Gianmarinaro Monti Emanuela Marilli Fabio Matti Andrea Mattolini Miranda Mej Giacinto Orfanello Giorgio Panero Lelia Secci Lucia Simeone Giovanna Ogolini e Sandra Vari quindi una proposta articolata e ricca che sarà visitabile fino al prossimo 23 ottobre Giorgio Panero Al prossimo episodio